E' un nuovo episodio di Let's Play Nel piccolo libro che ci era stato consigliato qualche episodio fa Per creare una specie di libro dei commentatori Che poi possiamo andare a leggere quando ci pare L'ho messo in una cesta a casa mia, non mi ricordo quale Però state tranquilli, me li sto scrivendo Comunque, passiamo ad altro Voglio ricordarvi che oggi ci sarà un segreto Quindi tenete gli occhi bene, bene aperti Perché, appunto, se trovate il segreto Magari ditelo nei commenti Dite alla gente, guarda che è qua Lo puoi trovare qua Questo è un indizio Si trova nella clip che inizia Qualcosa del genere oppure se lo trovate Semplicemente dite che lo trovate In più, vi ricordo che oggi è l'ultimo episodio Che avete per lasciarmi tutte le domande Slash idee per il nostro vlog di marzo Quindi se avete una qualsiasi idea O domanda lasciatela oggi Perché è l'ultima volta che potete farlo E poi lo dovrò andare a registrare Quindi non posso più prendere domande Comunque, passiamo al commento del giorno di oggi Che è di Simone Micucci Juventino Ermeio Non è più lungo, non poteva sceglierlo Che ci dà una piccola idea per una cosa di Redstone Che vi lascio leggere perché È un po' lunga da spiegare, è un po' difficile da capire Però praticamente è un passaggio segreto Con delle nuove feature nella 1.8 Che, alla quale non ci avevo pensato sinceramente Per cui l'ho scelto il commento Quindi lo ringrazio per il suo commento E praticamente lui mi spiega Che potremmo andare a fare questa specie di Appunto, sistema con le combinazioni della Redstone Per poi aprire un passaggio segreto Per il nostro museo della Redstone Dove poi magari possiamo anche mostrare Tutti i loop e tutte le cose che abbiamo fatto Per creare questo nostro sistema Appunto, con dei muri in vetro Qualcosa del genere Quindi lo ringrazio per l'idea E nulla, questo è tutto quello che volevo dirvi Prima di cominciare l'episodio E ora iniziamo Ok, allora La prima cosa che voglio fare oggi È lasciarvi la domanda Che vi voglio lasciare appunto Per farvi rispondere Per darvi una chance Per commentare O per darmi un'idea O per darmi un consiglio E quello che vi andrò a chiedere oggi È piuttosto importante Perché potrebbe andare a far cambiare il nostro mondo La mia idea sarebbe quella di andare Ad arrivare fino all'episodo 250 E poi cambiare mondo Però continuare con la serie Dei numeri degli episodi In avanti Quindi anche se cambiamo mondo Tipo 250 Ultimo episodio su questo mondo 251 Nuovo mondo Però Appunto il numero rimane E continua Quindi quello che vorrei chiedervi È se secondo voi Dovremmo continuare Ancora con questo mondo Per un bel po' di tempo Oppure se secondo voi È l'episodio 250 Che comunque È piuttosto lontano Cioè Siamo adesso all'episodio 235 Quindi contate 15 Sono più o meno 3 alla settimana Penso Quindi 5 settimane Quindi sarà probabilmente Verso gli Quasi gli inizi dell'estate Appunto potremmo iniziare qualcosa di nuovo E su un nuovo mondo Fresco Magari Anche con la nuova versione di Minecraft Però Appunto questo dipende da voi Quindi lasciatemi un consiglio Nei commenti Ditemi cosa secondo voi Dovremmo andare a fare Se cambiarlo Se non cambiarlo Se Magari solo spostarci Appunto da questa nostra area Eccetera eccetera Vi chiedo per favore Di lasciarmelo scritto nei commenti Perché questo è un argomento Piuttosto importante E mi servirebbe Una vostra Mano Un vostro aiuto Per decidere Ok allora Mi trovo nel land Perché voglio andare a fare Un paio di test Per questo nostro sistema Con il weeder Però iniziamo dal Prima a fare un piccolo setup Per quello che andremo a fare Allora voglio prendere Due pezzi di cobblestone Quello di legno ce l'ho E due pezzi di dirt Perché andremo a provare Una piccola cosa Per l'esplosione Per la rottura dei blocchi In più voglio recuperare Sta carne Che l'ho lasciata qua E mi serve Perché se no Che dia me ne mangio Quindi Buttiamo via Questi blocchi extra Giusto perché non voglio avere Cose dispari Poi voglio fare qua Giusto una piccola scaletta E voglio iniziare A rialzare un po' Tutti qua I nostri blocchi Perché come abbiamo notato Nell'ultimo test Il weeder Riesce a Vedere gli enderman E prova a spararli Cosa che è un po' Diciamo un problema Perché Se lui vede gli enderman Prova a sparare gli enderman Rompe i blocchi Che li stanno intorno Anche se non penso Che possa rompere Gli stone bricks O almeno A quanto abbiamo visto Non riesce a romperli Anche sparandoli Forse solo con l'esplosione Quindi appunto Voglio provare a vedere Se così riusciamo A non farlo Diciamo Non farli notare I nostri enderman E non spararli Quindi voglio giusto Un attimo Montare Il nostro La nostra base Di soul sand Perché voglio Poi fare un altro Cambiamento all'acqua Che anzi Probabilmente andremo Anderemo a fare ora Le nostre teste Le metto dopo Per ora voglio giusto Aprirmi un piccolo portale Qua Voglio recuperare Quel pezzo Di cobblestone lì Perché se no Ci potrebbe creare Qualche problema Perfetto Poi voglio Venire qui Vediamo Abbiamo Sì abbiamo Un altro paio Di blocchi Non molti Cos'altro mi serve A riempire Questi due bucket Di acqua Perché voglio andare A provare Ad allargare La piccola fontanella Con la sopra Di acqua Per poter Vedere Se riusciamo A proteggere Diciamo Lo spawn E proteggere In generale Di più Le esplosioni E i problemi Che diciamo Ci causa Questo nostro Dannato Weeder Weeder Birechino Cosa Comunque Per ora Penso che basti Così Vediamo Se poi Ci da problemi Anche con Questo numero Di acqua Che abbiamo Al momento Anche se è un bel po' E non penso Ci potrebbe Non penso Ci darà problemi Comunque Voglio Qui poi Iniziare a fare Una piccola Stradina Che porteremo Fino a qua Probabilmente Anzi un blocco Indietro Se no Poi rischiamo Di fare Qualche problema E vediamo Se abbiamo Un'altra leva Perché se io attivo Quella leva Lì Iniziano a partire Sì Fortunatamente Non è un'altra Iniziano a partire Tutte le frecce Quindi attiviamo Un attimo Questa Così che Non si attiva Questa Quando la desattivo E questo è solo Per attivare Il nostro sistema Da lontano Quindi Ora che abbiamo Fatto tutto questo Possiamo Mettere qua Il legno al centro Perché è Un po' il più importante Voglio che sia Il primo che venga beccato Poi questo Dove lo possiamo mettere Lo possiamo mettere Come porta Sì perché non Ci manca un blocco Poi cos'altro Voglio fare Voglio mettere giusto Un attimo giù Tutti i miei item E in più Voglio farvi notare Che sono senza Senza la nostra chestplate Perché ci si è rotta Nello scorso episodio Quindi voglio mettere giù Questi nostri bucket Questo non ci serve Per ora Poi dovrei recuperare Dieci blocchi qua Di Di obsidian Ma lo vado a fare dopo Quindi Prendiamo le nostre teste Mettiamole due Poi cambiamo La nostra Modalità di gioco Quindi Una Una due E mettiamoci In normal E poi Scappiamo un pochettino Quindi così Ok Il nostro video Sta spawnando Piano piano Mettiamoci qui dietro Questo non serve Che lo attiviamo Dobbiamo prima aspettare Che gli spawni Lo capiamo Dall'esplosione Dalla barra della vita Boom Eccolo qua Gli diamo un colpetto Così E se ora ci mettiamo qua Gli dovrebbe iniziare A spararci Vediamo se riesce a rompere Tutti i blocchi Noi stiamo puntando A farli rompere Anche la cobblestone Però non sembra Che la cobblestone La possa rompere Sembra che possa rompere Solo Le cose che non sono Uh è uscito Oh mio dio Come diamine Si è uscito Ok Ora devo capire Come lui ha fatto uscire E che cosa si è rotto Sembra semplicemente Di essersi alzato Di aver rotto I blocchi sotto Ok Forse un problema Forse le fence Non funzionano Quanto bene Io quanto pensavo Quindi ok Allora Il test che volevamo fare Per vedere se rompe i blocchi Funziona E riesce a rompere sia Eh Dirt Sia La nostra Il nostro legno Quindi è un Una cosa buona Ora fatemi Rimettere in peaceful Così almeno scompare Quindi Quello che volevamo fare Siamo riusciti a farlo Funziona Riesce a rompere il legno È quello che ci interessa Eh La cobblestone Penso che dovremo andare Per forza a utilizzare Il metodo Che ci permette Di romperla Mettendo i blocchi sotto di lui Quindi Dovremmo andare A usare entrambi i metodi Eh Però non sono ancora sicuro Sul metodo Quello per contenerlo Perché come avete visto È probabilmente salito Ed è uscito da questa feritoia qua Quindi forse dovevo bloccare lì Però Eh Sembra funzionare abbastanza bene Eh Comunque L'altro test che volevo fare Era quello di andare A provare un portale Del nether qui dentro Ma Suppongo che non funzioni O penso che non funzioni Perché Eh Potrebbe essere una cosa un po' Diciamo estrema Come Eh Feature che è stata messa nel gioco Non penso sia Appunto presente Non penso Possa funzionare una cosa del genere Ma lo andrò a provare qua Giusto per essere sicuro Se funziona oppure no E per avere 100% completezza Sulle mie idee Ok ecco qui L'ho montato Vediamo se va No non va Perfetto Eh Quindi Perché lo volevo testare Perché volevo vedere Se riuscivo a trasportare Gli item attraverso Questo nostro portale qua Nel nostro mondo O anzi nel nether Però ora voglio provare Un'altra piccola cosa Che è lanciare Questi sei blocchi di dirt Attraverso quello L'altro nostro tipo di portale Quello del land Eh E vedere se arrivano Dall'altra parte del nostro mondo Magari lanciandoli in punti diversi Giusto per essere sicuro Eh E poi voglio provare A saltarci attraverso Per vedere se Gli item arrivano dall'altra parte O se scompaiono nell'abisso O probabilmente sono fermi Lì sotto Ad aspettare che vengano ripresi Eh Vediamo Item item Non mi sembra di vederne Magari vediamo da sopra Se ce ne sono Eh Probabilmente magari Tipo le ha droppati dal cielo O una cosa del genere Non so È meglio sempre controllare Però penso di no E No Non ci sono item Quindi In poche parole Non abbiamo un vero e proprio modo Per trasportare Se non a mano Gli item Dal nether Eh Dal land Al nether O al nostro mondo Quindi Non lo possiamo Diciamo Rendere 100% automatico Ma non importa I test che volevamo fare Li abbiamo fatti Ok allora Mi trovo nel nostro Nel nostro nether Perché sto raccogliendo Giusto un po' di xp Perché voglio andare A farmi una nuova Una nuova armatura Una nuova parte Per la nostra chestplate Quindi eccola qua La voglio andare a incantare con voi Per vedere cosa ci viene Wow Ok Eh Ok That's lucky Eh Sì Eh Ci è venuta una cosa buona Eh Unbreaking 3 Protection 3 Thorns Tutte 3 insieme È la prima volta che mi succede Una cosa così Diciamo decente Con gli enchantment Eh Non so Oggi è la nostra giornata fortunata Ci è venuto un enchantment buono E ora abbiamo Una armatura un po' più forte Di quella di prima Eh Quella di prima aveva solo Thorns Ora abbiamo anche Protection e Unbreaking E quindi io dovrò andare Anche a riparare I nostri iron boots E l'elmet Che avevamo già messo da parte Gli item Dovremmo solo raccogliere Un po' l'xp Eh Gli iron leggings Li andrò a rifare Appena si rompono Però volevo giusto fare Con voi l'enchantment E si vede che registrando Mi sono anche portato Un po' di fortuna Quindi Dai Ci è andata bene Stavolta Bene 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 Ok allora Voglio andare a lavorare Un po' al nostro villaggio Ho in mente un paio di cose Che vorrei fare con oggi Però prima Eh Con voi oggi Anzi volevo dire Eh Però prima voglio farmi Giusto un altro po' Di questi nostri Eh Stone Bricks Lab Perché come prima cosa Voglio farvi notare Che mi sono portato Un sacco di dirt Per lavorare un po' Al nostro terraforming E ora inizierò Finalmente a chiudere Questo buco qua Perché voglio portarmi avanti Perché questo weekend Avrò un po' di tempo libero E Eh Se mi viene la voglia Di giocare a minecraft Ci metterò un po' di lavoro E ci lavorerò un po' Per Appunto Eh Portare avanti Un attimo Di più Questo nostro villaggio Perché al momento È molto molto indietro Eh Secondo l'idea Che avevo in mente io Secondo quanto lavoro Volevo metterci Però Eh È perché In realtà abbiamo messo Molto più dettaglio In tutto quello Che abbiamo fatto Quindi ha richiesto Molto più lavoro Eh In generale E Eh Appunto Sicuramente ce ne richiederà Ancora di lavoro Però Il problema è che Se continuo di questo passo Non arriverò mai Alla fine Quindi Cerco E anzi Cercherò questo weekend Di lavorare Il più veloce in fretta O cercherò di fare Eh Le più cose possibili In modo da Farvi vedere qualcosa di bellino Già fatto Eh Magari per il prossimo episodio O per la prossima volta Che veniamo a visitarlo Comunque per ora Voglio farvi vedere Giusto che sì Sto lavorando E non sto Eh Diciamo C'entro a caso In più mi sono fatto Un piccolo pattern Su un altro mondo Su come voglio andare Più o meno a fare Eh Qua l'inclinazione Del nostro Terraforming E ho deciso E ho deciso che alla fine Andremo a fare Il terraforming Fino alla fine Di questo nostro Quadrante Che abbiamo creato E poi una volta Che andremo A fare la curva Lì Lo andremo poi A riformare Secondo Qual è la curva E lo andremo A modificare Un pochettino Per renderlo Un po' più bello Però quello Lo si farà dopo Perché appunto Le mura sono L'ultima cosa Che vi ho detto Che voglio fare Volevo giusto Iniziare da Quell'entrata lì Perché poi Le voglio sviluppare Piano piano Tutti intorno Man mano Che andiamo avanti Quindi ora Voglio giusto Iniziare a fare Un po' la fontana Perché voglio iniziare A lavorare La parte sotto Che è quella Dei Sotterranei Slash Acquedotti Non so Se si potrebbero Chiamare Acquedotti Fogne Fogne Chiamiamole fogne Che avevamo detto Che volevamo fare Una cosa piuttosto strana Che collega Diciamo tutti I posti importanti Quindi che ne so Il castello principale Che andremo a fare O casa Non castello Non so perché Lo continuo a chiamare castello Anche se probabilmente Non sarà un castello Ma Non importa Poi andremo a fare Appunto Che ne so Un fabbro Lo andremo a rifare Alla nostra maniera Andiamo a farlo più fico O poi andremo probabilmente A fare qualcosa Come che ne so Un negozio importante Tipo il gioielliere O una banca O qualcosa del genere E appunto Saranno più o meno Tutti collegati Quindi L'idea è quella Di riuscire In qualche modo A collegare Tutti questi nostri posti Importanti Diciamo Fra di loro E poi trovare Un modo Per portarli Fino al Nostro tunnel Di uscita Che è quello Lo stesso Che abbiamo messo Nelle mura O diciamo Nella torre Quella lì Di destra Così che appunto Facciamo una specie Di posto Di uscita Segreta Per Che ne so L'imperatore Del nostro villaggio Qualcosa del genere Giusto per fare Un po' più di scena E farlo un po' più bellino Quindi potete vedere Che la nostra fontana Non è nulla Di che è giusto Una fontana Molto molto semplice L'unica cosa Che appunto Vorrei provare a fare È i sotterranei Che non so sinceramente Come andare a fare Probabilmente sarà una cosa Molto molto semplice Con tipo L'acqua sul pavimento E O acqua come pavimento Dovrei dire E poi avrà tipo Dei blocchi Messi un po' a caso Giusto per dare Quell'area di Un po' random Che c'è Tante volte nelle fogne Non so se siete mai stati In una fogna Io ci sono stato una volta E È piuttosto strano starci Uno per la puzza E due per Diciamo Quello che si trova dentro È tutto praticamente Bagnato Umido E C'è Acqua sporca Che passa in giro E non è veramente Un bello spettacolo Però sì Questa è giusto una prova Per la nostra Fontana Sicuramente non sarà così Così Perché questa sembra Tipo cicciotta e bassa Sembra Per chi conosce Il film Appunto Sembra Sempre Jabba the Hat Non so se avete Presente Però Sembra il blob Di Jabba the Hat Se fosse Tipo messo tutto In un punto Se lo allunghiamo Tipo lì Potrebbe venire Proprio perfetto Jabba the Hat Quasi quasi facciamo La fontana Jabba the Hat Ma è un'idea stupida Non ascoltatemi Comunque sì Voglio provare a lavorare Un po' a questo Ora vi sto facendo Solo vedere un po' Come io costruisco Perché mi avete detto Che vi interessa Vedere come Diciamo Esamino le cose E come penso Alla costruzione Questa è proprio Una fontana fatta così A caso È proprio Terribile da vedere Cioè se voi la guardate È un ammasso di acqua Che fa una forma strana Non è nulla di così interessante Quindi ci dovrò Lavorare un pochettino Se voi avete fatto Una vostra fontana Che secondo voi È bella O è venuta bene Siete sicuri Di mandarmela Così Che magari posso Prendere spunto E anche nominarvi In un video Per dirvi cosa ne penso O se mi piace Oppure no Eccetera 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 Quindi se avete trovato O se avete fatto voi Qualcosa direttamente Di carino Che volete mostrarmi C'è nella descrizione La pagina facebook Dove potete mandarmi Tutte le foto E tutti i post Che volete Appunto Ma magari ditemelo Anche nei commenti Così so chi siete So chi mi ha mandato cosa E chi è chi In modo da Anche potervi salutare Se mai succederà Una cosa del genere Ok allora Voglio darvi un piccolo update Su questa nostra Area dell'occelot Allora potete vedere Che ho scavato Tutta questa parte In più Scavando Ho anche trovato Un piccolo tipo Laghetto qua Sotterraneo Che non ho idea Di come Si è stato creato O perché ci sia Ci sono anche le liane Probabilmente Tipo derivate E trasportate Attraverso i blocchi Dagli alberi In qualche modo strano Tramite la genetica Di minecraft Quindi lo andremo a chiudere Giusto per non cascarci dentro Per non rischiare Di avere qualche problema Ora l'unica cosa Da fare Vera e propria È Riempire il tutto Con la terra Potete vedere Che c'è Un bel po' di Spazio da riempire Ma fortunatamente Abbiamo un bel po' di terra Da quella che Abbiamo recuperato Rompendo tutto sopra In più Il passaggio dopo di quello Che è un passaggio Un po' minore Sarà andare A rimuovere Tutta la sabbia Anche dai lati Quindi anche in queste parti qua L'andremo a rimuovere E l'andremo a rimpiazzare Anche questa Con la terra Giusto per avere tutto uniforme Per avere tutto uguale E Pensavo di farlo anche Con la stone Perché alla fine Potremmo farlo E non sarebbe una cosa Troppo rischiosa Ma La picca che sto usando io Sta diventando Piuttosto rotta E non vorrei rischiare Di romperla del tutto Quindi Probabilmente andrò a fare Anche la nostra Parte laterale Quindi tutta quella intorno La nostra area laterale Del Cos'è Un cubo Non è un cubo Un parallelepipido Con l'altezza piuttosto bassa E È solo Ok Non c'è molta parte Da riempire lì Quindi è solo quella parte lì Che è il punto Un po' più in alto E Probabilmente anche qua Dove ci sono le foglie Lo andremo a fare Giusto per Essere 100% Completi In più Poi li vorrei portare Tutti allo stesso livello Almeno di 3 blocchi Quindi Deve vedere 3 blocchi 3 blocchi Lì è più di 3 blocchi Siamo più che sicuro Qua lo vorrei magari unire Fare tutto uguale Lì è più di 3 blocchi Quindi solo quella parte lì Che è un po' più bassa Perché È dove c'è la discesa Della nostra Della nostra Terra E dovremo andarlo A illuminare Per Permetterci di spawnare Di notte Perché se Appunto Non illuminiamo Probabilmente spawneranno Mostri Quindi sarà Da illuminare Veramente bene Questa zona Però Vi farò vedere Qualche altro update Nei prossimi episodi Ok Allora Sto raccogliendo Giusto L'ultimo livello di XP Perché voglio andare A craftare Un'altra Pickaxe Anzi l'ho già craftata Devo solo andare A incentare Ma voglio incentarla con voi Perché prima Ci ha portato fortuna E voglio vedere Se ce la porto anche ora Vediamo Ci manca giusto L'ultimo blaze Che lo vedo lì Ok perfetto 30 livelli Possiamo rimetterci In peaceful Mettiamo qui dentro La nostra pickaxe Incrociate tutte le dita Uh Nice Ok Vediamo Allora Unbreaking E unbreaking C'è in entrambe Efficency 4-5 Ok Oh mio dio È buonissima Oggi ci è venuta Veramente fortuna enorme Con gli enchantment Ok Quindi questa è la nostra Nuova picca Però Pensavo di avere Più tempo Nel nostro episodio Però mi dispiace Dirlo Per questo episodio È tutto Perché siamo già Ai 20 minuti Quindi io spero che questo episodio Vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Mi piace, commentare Iscrivervi e fare Tutte le cose che dicono Ogni santo e singolo episodio E vi ricordo che se volete aiutarmi Ancora di più Appunto potete mandare Il video agli amici Allo nonno Allo zio Chiunque voi vogliate E vi ricordo che se avete trovato Il segreto di oggi Di scriverlo nei commenti Così che posso sapere In quanti l'avete trovato O se l'avete trovato Quindi Io spero che questo episodio Vi sia piaciuto Con questo saluto Bella raga Qui danni fra